spirale ritrovarsi attraverso mario del giglio guida ora però andiamo avanti con l'insegnamento della spirale come sempre vi facciamo comprendere le verità a piccoli passi credete di potervi separare come particelle divine nel momento in cui fate parte di un tutto inscindibile ed eterno come potete separarvi siamo tutti in una fase eterna ma consentire diversi tutti lo siamo si intende noi qui vi stiamo aiutando ma siamo consapevoli che esistono altre conoscenze quanti di voi invece vivono insieme ad altri fratelli e non si rendono conto che debbono essere aiutati perché sono diversi quando vi si spiegava del tempo passato presente e futuro noi abbiamo detto io sono in un eterno presente cosa significa che per noi il tempo non esiste e non esisterà per voi quando verrete qui dio esiste sempre il giorno la notte sono dualità terrene non spirituali